Ciao! Luciano! Amica Casalinga parlo a te! Se vado a presentare un prodotto, Cucchio! Cucchio! Dici che fa Cucchio? Ora ti faccio vedere che fa Cucchio! Cucchio! Divide! Cucchio! Sminuzza! Sminuzza Cucchio! E io mangio! Che ce ne fai? Poi prende, ti stanno sul casa o chiede, io metto il latte e vamo riammazzato! Dici amica, come faccio? Prendo il Cucchio e come fai? Questo è cotto a linea! Dici come facciamo? Fammi in Italia! Ma che in Italia? Questo è made in Sardegna! Made in Sardegna! 99 euro Cucchio!